Grande cordoglio a Orta San Giulio per la scomparsa di Don Giacomo Bagnati, per tanti anni, sin dalla fondazione, cappellano dell'abbazia Mater Ecclesie di San Giulio. Il funerale sarà celebrato lunedì 15 luglio alle ore 15 nella Basilica di San Giulio dal Vescovo Franco Giulio. Sarà poi tumulato nel cimitero di San Filiberto di Pella. Così recita il messaggio pubblicato sul sito delle Benedettine dell'Isola di San Giulio. News 24, la tua nuova TV locale.